So che ti debiterò la banca, io posso cancellarlo. Non vorrei fare il cambio, liberarsi in cambio. Non è possibile, se proprio insisti, ma ti cambiano. Non è stato contattato dalla sede della FBI a Washington e dalle più alte cariche, naturalmente. Mi hanno riferito che in zona Liguria-Levante, qua, c'è una banca che spaccia euro-false. A chi ci stanno più di 500 milioni di false che sono riusciti a fare? Oh, 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 il mezzo è bello. Il dottore Zafi, mi sa ancora, è ancora all'imposto per la partita del pubblico. Oh, finalmente! Sono in Columbia, nella mia patria. Ora sono io al potere. Vieni la pistola? La si carica! E poi si fa! Sei io a casa? Io sono il tuo figlio di puta! Io sono il tuo figlio di più! Io sono il tuo figlio di più! Libero! 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 Metti le mani in alto! Metti le mani in alto! Metti le mani in alto! Mettiti in ginocchio! Mettiti in ginocchio! E' un buon beccato finalmente Quindi lo lascio a tuo tiro